e siamo qui ciao ragazzi allora volevo farvi vedere visto che più volte mi è stato chiesto sia dai miei allievi da persone che mi hanno visto in giro con il progetto che ho con vittore savoini cello versus guitar vi invito chiaramente a cliccare sui nostri canali sui social su youtube eccetera e oggi volevo farvi vedere chariots of fire cioè momenti di gloria allora noi abbiamo rifatto la colonna sonora riarrangiandola chiaramente in versione cello versus guitar quindi una 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 chitarra elettrica che sfida che sfida un violoncello elettrico e ci sono alcuni passi che voglio farvi vedere in questo modo allora intanto ho setato un whammy ok è l'inizio della canzone faccio proprio un re ok posso giocare sul minore sul maggiore sopra il pad che inizia posso fare un po quello che voglio dal vivo soprattutto è molto divertente come cosa ok e poi parto qui c'è il passo dove entra il violoncello e la parte che come dire saliente ecco dove appunto volevo farvi vedere cosa faccio e le domande sono venute proprio su questa è la parte di tapping che faccio sulla sul tema io lo faccio in questo modo cioè eccomi qua aspetta che sposto un po il cellulare dodicesimo capotasto direi faccio questa cosa adesso ve la faccio vedere un po in velocità poi la rallento allora come faccio a fare questa parte allora il whammy è chiaramente ottava ottavato in alto ok e sono qui guardate tolgo il delay lo faccio normale così si capisce meglio ok dodici ok in realtà è molto semplice gioco molto con la corda vuota chiaramente poi c'è tutta una parte botta e risposta violoncello eccetera l'ultima cosa che voglio farvi vedere è questa parte di tapping allora la parte di tapping il suono che usa esattamente questo c'è solo un leggero riverberino e faccio questa cosa qui in questo caso il gioco è uguale al tema ma siamo in minore chiaramente quindi ve la faccio vedere lentamente ora dodici dieci otto cambio cambio due volte uguale corda di sol l'effetto è molto bello ok bene ragazzi allora cliccateci seguiteci su youtube su su instagram su facebook cello vs guitar cello sta per violoncello guitar per chitarra la chitarra che sto usando in questo video è una silhouette music man special made in louis obispo california bellissima line 6 helix ehm here we go e e e e e e Grazie per la visione!